domani prendo con giovanni mario e enrico ce ne andiamo in val no luco magno che ci piace adesso non c'è niente perché tutto sotto la neve però diciamo magari c'è qualcosa c'è qualcosa adesso sicuramente il foraging si può fare in ogni stagione anche in inverno si possono raccogliere un sacco di cose c'è la base del papavero le conifere le resine le cortecce interne le cortecce cioè mangiamo le cortecce le cortecce interne cioè la parte la corteccia interna cioè la parte direttamente posteriore alla corteccia che vediamo all'esterno sul tronco di un albero l'unica parte di del tronco di un albero che non è composta da cellulosa e che può essere assimilata dal nostro organismo ed è una parte molto ricca di nutrienti perché vi passa la linfe elaborata e quindi è ricchissima di zuccheri di minerali di vitamine pensate che un tempo veniva raccolta si raccoglie solo da alberi che sono già caduti per eventi naturali che sono stati abbattuti dagli enti forestali perché infliggere una ferita troppo grossa sul tronco di un albero significa portarlo alla morte e un tempo raccoglievano la corteccia interna la essiccavano al sole e la macinavano con i pochi grani rimasti un tempo non c'era l'agricoltura intensiva quindi quello che veniva coltivato veniva ceduto prevalentemente ai ceti più abienti e ricchi e il popolo doveva ingegnarsi per questo la limurgia cioè il foraging erano parte della sussistenza limurgia perché alimurgia quindi queste cortecce venivano raccolte la traduzione di la limurgia è la scienza che studiava la possibilità di cibarsi di cibo selvatico in momenti di carestia povertà un tempo era una vera e propria scienza perché cibo selvatico faceva parte stavo pensando che adesso è uno di quei momenti forse probabilmente si faceva parte della della quotidianità delle persone andare a raccogliere perché era importante per la sussistenza noi adesso siamo abituati a una sussistenza molto diretta ma tu riusciresti a partire dal 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 monviso e arrivare fino a cortina senza fare la spesa mangiando solo cibo assolutamente sì ma tutti potrebbero farlo tutti no perché morirebbero cioè nel senso ecco quanto è pericoloso delle persone formate potrebbero farlo persone formate quanto tempo ci vuole per imparare a sopravvivere facendo tutto l'arco alpino mangiando solo cibo selvatico allora imparare a fare il forager è un percorso imparare a fare il foraging forager significa fare un percorso piuttosto lungo perché un forager ne sa di antropologia di etnobotanica di geografia di botanica ma anche solo per sopravvivere nel mondo selvaggio perché comunque può essere molto rischioso cioè considera che tantissime piante che sono considerate edibili hanno un sosio tossico il sosio tossico può essere anche mortale se ti sbagli non è piacevole perché mangia la cicuta al posto della bella cicuta la puoi mangiare al posto di qualsiasi ombrellifera come ad esempio la carota selvatica il cerco aglio insomma è pericoloso pensi di mangiare la carota selvatica ma se dovessi fare un'esperienza di questo tipo la faresti senza cibarti di carne riusciresti c'è senza cacciare senza certo sì sì perché io non mangio carne sì perché ci sono tantissimi alimenti selvatici che sono equilibrati sotto il punto di vista nutrizionale in qualsiasi habitat ad esempio nell'habitat alpino stavi parlando dell'arco alpino sì i licheni abbiamo noi abbiamo catalogato al lab più di 4000 licheni sull'arco alpino e solo due sono tossici e i licheni sono degli alimenti molto completi perché contengono proteine carboidrati minerali vitamine ma mi fai vedere un licheni che poi sono due esseri che si è una simbiosi tra un'alga e un fungo è sempre un'alga e un fungo che figato non lo sapevo quindi licheni è molto proteico è equilibrato perché ha proteine minerali carboidrati e vitamine e dove li trovo ci sono diverse tipologie di licheni ci sono licheni crostosi che però vanno lasciati dove sono perché sono di bioindicatori a sguesti ad esempio non si possono raccogliere perché sono di bioindicatori e crescono molto lentamente ci mettono anche centinaia di anni quelli si lasciano dove sono però ad esempio quello sono delle opere d'arte della natura sotto a questo questo ad esempio un licheni molto comune che può essere raccolto si trova anche già staccato dalle cortecce degli alberi cresce sulle cortecce rami degli alberi si può si può raccogliere anche già staccato così senza correre il rischio di ferire la corteccia dell'albero va trattato gli va fatto un bagnetto basico perché contiene molto acido lichenico quindi generalmente si tratta con acqua e cenere la cenere un elemento basico per otto ore e da lì in poi può essere riessiccato e utilizzato come un alimento moltissimi modi ed è super nutriente anche buono ha un buon sapore di cosa sa di anice sa di foresta ma riesci a farci un esempio proprio di menù che potresti trovare cioè dei pasti che potresti trovare andando dal non viso fino a cortina dipende dalla stagione questa stagione adesso adesso no beh no meglio dai subito le cose difficili ma ad esempio potresti farti un sacco di zuppe con le innumerevoli erbe che trovi potresti farti delle insalate potresti cuocere nel fuoco le radici che sono buonissime hanno tantissimi gusti diversi fra loro potresti i frutti le cortecce interne licheni i funghi cioè insetti molluschi cioè cose nel forage che sono compresi anche i molluschi di mare terra e anche gli insetti anche se nella nostra cultura non sono così considerati in realtà praticamente il confine tra due discipline diverse che sono la caccia e il foraging sta proprio in questo cioè il foraging il foraging è compreso tutto ciò che può essere raccolto e non cacciato quindi anche gli insetti molluschi di mare terra e vegetali o parte di essi e cioè ti è mai capitato di visto che leggendo tuo libro ci sono delle immagini a volte anche abbastanza intense nel senso che sei in mezzo a degli scogli con le onde che arrivano insomma ci sono delle quali sono le cose più pericolose da raccogliere che ti è mai capitato di vabbè nel libro ho fatto delle esperienze anche piuttosto forti innanzitutto sono stata accompagnata da un fotografo che è un fotografo di outdoor che abituato a vivere queste avventure che è richard felder bellissime e con me in alcuni viaggi c'era anche una guida alpina ci siamo ad esempio trovati nell'abitato di montagna in mezzo a una tempesta c'è una foto che la rappresenta dove c'era tipo meno 30 probabilmente con un vento fortissimo in italia sì eravamo vicino al ghiacciaglio dei forni quindi vicino a bormi in realtà e in val ferrè no no e lui che parla no scusa come si chiama in valle quella di fianco alla zebru la val quella che parte da santa caterina è la valle del ghiacciaglio dei forni si chiama così è quella comunque fighissimo tra l'altro e il ghiacciaglio più vicino a milano che c'è forse no no ce ne sono altri vabbè lì ho avuto anche un po di paura perché comunque quando senti il vento così forte fa così freddo non riesci a respirare bene sei comunque in una condizione fisica che non è ottimale però comunque devo dire che ce la siamo cavate e le foto sono bellissime secondo me perché ti dimostrano davvero in che tipo di situazione ti puoi trovare quando ti spingi nella natura più incontaminata in stagioni dove di solito non sei abituato a frequentare quei luoghi oppure sì anche quando ci siamo avventurati nel mare invernale per la raccolta delle alghe non è stata assolutamente una situazione semplice perché non c'era il mare appunto tranquillo ma c'era il mare molto freddo con queste onde che tipo di alghe avete preso combo che alghe no abbiamo preso delle alghe in realtà verdi le alghe si suddividono in diversi gruppi a seconda della profondità di crescita le alghe verdi sono quelle che riescono a fare la fotosintesi e quindi stanno in una profondità che sta da più o meno un metro fino a dieci metri la fotosintesi avviene con la luce quindi hanno bisogno della luce che riesce a filtrare fino a una profondità di circa dieci metri ci siamo concentrati appunto sulle alghe verdi se ti è piaciuta questa clip vai al canale del bazar atomico per vedere il video integrale ciao